Mi sembra un bel segnale, un segnale forte, come sempre più che le parole valgono i fatti. Mi sembra adesso però che ci debba essere un appello alla responsabilità, la responsabilità di tutti e in particolare dell'opposizione. Per una volta, almeno nei prossimi giorni, smettiamo di chiedere le dimissioni del Presidente Berlusconi e iniziamo a confrontarci seriamente sui contenuti di quella lettera, sulle proposte. Ci sono anche delle date, delle scadenze e lì si misurerà la serietà sui contenuti e sulle date, se sapremo o no tenere fede a quei contenuti e a quelle date. Mi auguro che in Parlamento per una volta ci si confronti seriamente nel merito.